Siamo finiti in non so dove, Luca Steele, sono sempre io, e Giordana, senza nickname, dove stanno andando? Oddio, è un uovo, un uovo gigante. Ah, che bello, non mi sono emozionato, meno male siamo venuti qua perché non li potremmo non vedere, cioè, non vogliamo tornare in Italia senza aver visto questo spettacolo della montura. Assolutamente non era possibile, ne ho qualche attrazione avanzata. Sì, questi sono i bagni. No, è stupendo. No, ce li ho passato. Ah, molto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ah, ma siamo qua. Ah, capito, questa è la storia. Sono scolpiti a mano, squaldi, ma che cazzo serve? Dite ciao, YouTube. Ciao. Ciao, YouTube. Ciao, YouTube. Ciao, YouTube. Sì, i bagni. Ok, i bagni. Adesso facciamo le foto. Ciao. Ciao.